ragazzi siamo a Cipro c'ho anche una roba sulla testa a Cipro siamo arrivati io siamo noi allora buffissimo però mi sono già fatto amico il tassista il tassista che ci ha portato ha fatto attraversare tutta l'isola ci siamo già messi d'accordo gli ho detto che voleva affrontare una macchina a un certo punto e lui mi ha già detto si si non ti preoccupare ti porto io my friend allora siamo diventati amici e mi ha detto dove posso andare mi porta dal suo amico che c'ha le macchine quelle buone ciao Ferrari e quindi tutto presto a posto sono già andato anche in mare adesso in realtà sto preparando il talk mi mancano un paio di slide poi devo un po' tagliare perché ho 30 minuti e penso di aver preparato un 150 slide ma non sto scherzando per cui dovranno essere un po' tagliate presumo però prima adesso ci sono i cocktail in piscina e con la vita è molto dura qui in astronomia adesso vado a bermi un cocktail in piscina poi torno e finisco il talk perfetto e poi andiamo a cena mi hanno detto che col bikini i cocktail sono gratis ora io il bikini non ce l'ho però c'ho il mio costume da bagno volete vederlo come va come colore va bene come bikini secondo me anche se non è un bikini il cocktail gratis me lo danno lo stesso io penso che ma poi se riusciamo facciamo una lezione di cucina cipriota che ne dite secondo me una lezione di cucina ce la facciamo vai adesso ora apriamo il cocktail e poi torno a fare il talk e già che ci sono mi organizzo anche per la macchina che ci sono 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 che ci sono